musica 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 due belle patatone si oh e lei io non so quello che c'è sotto prontuoso di se una vecchia della bella patatona ce l'ha vedendo o so non c'è nessuno però ragazzi no vabbè dai pensiamo che comunque dobbiamo fare un real senti tu stai sana mhm la febbre ooooh piccolo cucciolo ooooh ah si non pensavo non pensavo ma hanno messo anche qua le armi di halloween si fanno uno sbocco la minigran e la calcia e la lancianzucca vabbè la minigran non è male mhm guarda se ci prendi si per me per me è che spara storto con la merda qui ci sta l'infanteria culo tarocco che fa 30 invece di 40 ooooh avete sentito il mio fantasma mhm dopo facciamo partita normale perchè? ah è tutto ambientato halloween ma che cazzo me ne frega a me tipo se cambiasse qualcosa che fai i partiti normali sei tipo che cazzo ne so arrivano 20.000 spettatori dici oh minchia facciamo le altre partite ma tanto ragazzi è uguale chi guarda fortnite guarda fortnite si è proprio un peccato ci sta tutto c'è c'è tanta roba nuova il problema è sempre che se lasci il jetpack e quelle cose lì è un macello si sono d'accordo sono d'accordo per esempio la minigran però scusatemi la minigran non è più un gioco da minigran questo ma no ma non spara neanche dritto quella roba eh però capisci qual è il problema cioè il problema e c'è loro devono capire che comunque fortnite è cambiato non è più quello di una volta quindi ci sono delle armi che non dovrebbero proprio mettere cioè non una volta cristo io con la minigran ma vi ricordate quello che facevo io nei video raga cioè facevo 20 kill con la minigran ma adesso che fai? in singolo io non ho ancora troppo una salta mammut c'è un po' di eco e quello è mogli come al solito aguilino non può essere aguilino è diventato full hd mega galattico incredibile cioè proprio ormai aguilino è aguilino è ragazzi ineruttabile tipo Thanos quel pc ha capito io ne ho 13 però mi ritengo 20 per me raga penso che c'è sta uno qua da noi che spara sapone sono abbastanza convinto gente da noi ragazzi cioè gente da me scusatemi che è stupido a dire da noi mi ricordo mi devo ricordare siete un team di merda ma guarda non ho avuto nemmeno colpi cieco io uno l'ho battuto colpi cieco bianco dietro è bianco questo bello 2024 la gente che si fa il chug chug io ti giuro guarda ma tu c'è scritto tu c'è scritto andiamo la va voi c'è scherzate ma guarda che brutta la roba eh brutta vera eh 2 da me 3 da me e dai quelli invece di chiacchierare fatti tutti su ho già rotto il cazzo niente è morto che scherzo sono in tre ragazzi qua terra uno terra uno raga forse un altro team è possibile mai? si sembrava da sopra si qua sopra anche a destra se è per quello qui sotto l'ho restato uno bianco uno arriva zucca bianca mi fioschi a destra si esatto quello è bianco questo è due ah io non mi avvicino a voi vi attaccate esatto vi attaccate alla ceppa di cazzo eh allora calcolate che hanno tirato 29 bolle non sto scherzando c'è uno qua dentro ah si stanno massacrando là che carini sono stupido sono stupido e niente altre bolle e vabbè ragazzi io che cazzo vi devo dire ma che roba e vabbè 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 oh porco questo fondo ma dietro di me ah dietro di noi ragazzi dietro di noi dietro di noi raga venite eh merda non lo so non lo so questo buntabile non lo so allora ragazzi ci dobbiamo togliere perchè siamo in mezzo a un panino gigantesco culo io ho finito i colpi cecco raga eh abbattuto ma 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 no qua avete colpi cecchino ragazzi è qui lì no arrivo ritorno sul mio craccato quella morta craccato qua morta due battuti là occhio sopra di noi craccato è craccato è craccato ragazzi bianco qui però non riesco a ucciderlo 30 hai colpi razzi hai colpi razzi 30 hai colpi razzi che bene giocato che non Share lo è seguito che ci bianco di coerzzi ma sono Qua 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 40 120 Batuto 81 Batuto Batuto La sopra 36 Nooo Era un headshot palese Ragazzi ma quello Ma non l'ho Strano però 36 Ma l'ho preso ma tranquillamente Vai vai buttate giù qua la schifezza 36 35 bianco Avete No non c'avete niente Non c'avete una lira come al solito Cecchini No no Medikit Eh no medikit ce l'ho tranquillo Ragazzi mammut se volete La mia destra Forse Occhio safe Forse 71 Ci possiamo mettere qua Io ho solo io Bunkateli Sì Ne ho due Quindi non li posso tirare ragazzi No no Abbattuto Mamma mia Faccio schifo Faccio Questi sono vuoti eh Va bene ragazzi Io posso Uno qua Che sono buoni Vuoti Ci riprendiamo Però siamo un po' troppo centrali Per il momento Secondo me Ragazzi già l'ho abbattuto 300 volte Ragazzi mi sembra che la mira è più lenta Devo alzarla dopo Io non ho avuto problemi E io adesso mi avevo notato col cecco Lento Ok Con assalto e arresto Va bene Uno scenda 41 No scudo Morto 105 Qui dietro Bravo Ragazzi occhio siamo un po' centralini Ve lo dico eh Ho battuto uno qui Questi davanti Ah eccoli Eccoli questi davanti Ci stanno pullando qui Fortu uno Ok Braccato 160 Dai buscio Sono due Braccato questo 41 E che cazzo curia fa così tanto Tanto sei morto Oh Eh non te corre ancora Vai ci tiene Ci sono shield Che io sto senza Aspetta te lo do subito Tieni Thank you Altro trimmero Tiè tiè poi fatti Fatti crossa Dopo Abbattuto Dentro Bunkatile 42 Bunkatile vuoto È morto Niente Come non detto 42 Sopra la casa Attenzione Sopra 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 Sono gli ultimi Sopra A casa Andiamo già in safe Andiamo safe Andiamo safe Andiamo safe Stanno venendo Uno no 82 130 Sopra Bianco 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 Morto Craccato l'altro Craccato 84 Bianco È bianco Partitina Un po' così Sì Sì L'ho trovata Abbastanza Cioè Che vedevo di Secondo me È da canale Chiedo eh Secondo me Non lo so Oh Tra l'altro Siamo quasi 1200 Grazie ragazzi Che dite voi Ah Più zero No no È buggato È visivo Cioè Sì Abbiamo fatto Belle cecchinate Una partita Un po' tranquilla Che dite voi Secondo me No Non è Purtroppo Un po' troppo Che Sì Pure secondo me Regano Cioè Non è proprio Da canale Abbiamo giocato meglio Secondo me Sei partite già Migliori No Sto un po' a secco Però Ma che è Sta pelata Però Però B No.